salve vi presento questo fantastico schermo sfocato è fatto apposta così che cos'è questo schermo sfocato beh semplicemente non sono nient'altro che una lista di aneddoti ed eventi curiosi capitati a me ed alcuni altri compagni delle superiori l'idea sarebbe che io prima o poi a partire da questi aneddoti insomma creerò un libro scritto magari in inglese dove ci sarà un personaggio principale che interagisce con me con i miei amici più stretti delle superiori e niente secondo me è una cosa simpatica da fare perché poi così mi racchiudo da una parte i miei i miei ricordi cari diciamo e niente sì quindi questo video serve più che altro a ricordare a me stesso e a motivarmi a farlo prima o poi in questi anni a venire e niente buone cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti